Bologna, Franco Prodi, fisico, climatologo, uno dei quegli scienziati italiani che ha preso carta e penna per dire che quanto sostiene Greta Thunberg non è un allarme fondato scientificamente ma solo su base delle semplici congetture. Franco Prodi, parto proprio da lei, ha tirato un sospiro di sollievo quindi stamattina quando ha scoperto che l'Accademia di Svezia non ha insegnato del premio Nobel per la pace Greta Thunberg? Ma non mi preoccupo particolarmente il problema di Greta, la nostra petizione è partita in giugno proprio per dare un senso di cautela nel caso mio da fisico delle nubi perché non potevo pensare che si procedesse con tante incertezze perché le nubi sono al centro del sistema climatico ecco, dovremmo fare un pochino appello alla fisica del liceo, insomma il cuore del sistema clima è determinato da un equilibrio fra due flussi fotoni solari in arrivo e fotoni terrestri che se ne vanno verso lo spazio esterno. Però, professor Prodi, al di là adesso delle spiegazioni specifiche però non è solo Greta che dice che c'è un problema di riscaldamento del pianeta collegato alle attività umane, lo dicono le stesse agenzie delle Nazioni Unite. Ma l'IPCC è una vicenda che va avanti nel 1978 di dialogo fra le Nazioni Unite e il mondo scientifico, però non è l'ambito in cui si procede la scienza, insomma, questo va detto e fanno del report che vengono da modelli che sono via via perfezionati ma non producono delle previsioni affidabili, insomma ci danno degli scenari, tanto è vero che per questo fine secolo si prevede un aumento che poi in alcuni modelli da un grado e mezzo, due, da altri da 6-7 gradi, quindi vuol dire che quando le previsioni sono così vaghe non c'è una certezza. Questa è la ragione per cui non può esserci questa certezza, anche loro dell'IPCC lo ammettono perché c'è sempre una figura in cui si rappresentano diversi fenomeni con il livello di conoscenza scientifica, level of scientific understanding. Dunque, lei vede quella tabella, vede che sull'aerosol, sulle nubi, sui gas R c'è un LL, low level of scientific understanding. Si cautelano anche loro, però alla fine dicono che il 95% è causa dell'uomo, non ha senso. Non è vero, allora, allora.